Gas Sales, Bluena Argivoli, Piacenza, che torna all'attività in vista della nuova stagione con un punto fermo. Coach Lorenzo Bernardi, sei rimasto in questa società con grande ambizione. Ma vabbè, certo, è stato motivo di grande orgoglio, di soddisfazione. Avere la possibilità di iniziare, di lavorare, di programmare fin dall'inizio non è un dettaglio da poco. Mi ha fatto particolarmente piacere poter continuare a svolgere, dare continuità al lavoro che è stato iniziato l'anno scorso. Gas Sales, che è diversa rispetto allo scorso anno, è cambiata, ci sono nuovi giocatori, anche loro olimpi contro Ambrizard. Ecco, com'è cambiata, che squadra vedremo? All'inizio la cosa principale sarà avere un'unione di idee, di intenti e trasformare un gruppo di giocatori in una squadra. Ci vorrà un po' di pazienza per vedere un'idea di gioco. Abbiamo qualche giocatore, di cui il più importante è il palleggiatore a livello di ruolo, che è il regista, che arriverà non all'ultimo, ma parecchio avanti. Così come i due opposti, così come Recine, così come Damiano Catania, che giocherà fino al 3 di ottobre il campionato mondiale Juniores. Però sono contento, insomma, sono soddisfatto. E viste le potenzialità, quali possono essere gli obiettivi stagionali? Sarà un campionato molto, molto equilibrato. Le tre top team hanno fatto un mercato straordinario, hanno fatto un mercato molto, molto importante. Mi riferisco a Perugia, a Modena, a Civitanova. Poi c'è un gruppo di squadre che per quanto riguarda quarto, quinto e sesto posto, settimo posto, sono molto, molto agguerrite. Sarà un campionato dove se non giochi bene, perdi.